Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuto nel nuovo appuntamento di video pensiero di oggi Dio vi benedica sia lotato nostro Signore Gesù Cristo sia fatta la sua santa volontà e lotta e gloria nostro Signore Gesù Cristo e Ave Maria Bene, andiamo a vedere la prima notizia che riguarda oggi il riferimento a Sodoma e Gomorra si sono salvate che viene dal blog o sito di Marco Tosatti ed è pesante come deduzione ma andiamo a vedere, dice una breaking news che arriva da San Pietro viene da ridere perché dice Sodoma e Gomorra si sono salvate e andiamo a leggere quello che è stato detto all'interno che cosa è stato detto fondamentalmente ci sarebbe da piangere, a me mi viene da ridere ma lasciamo perdere e dice nella prefazione Cari amici e nemici di Stilum Curiai che è il blog o sito di Marco Tosatti che dice vi riporto senza aver potuto controllare con fonti indipendenti una notizia che ci è stata data da un frequentatore abituale del nostro sito che rappresenta una messa celebrata oggi a San Pietro ma riferimento ovviamente credo a ieri perché oggi è il 29 quindi il 28 luglio alle ore 10.30 la trattiamo in modo scherzoso ma se è vera come penso che sia dice il giornalista è un segnale preoccupante uno dei tanti della leggerezza con cui questi professionisti della fede attrattano le scritture cioè la base fondante dell'edificio che stanno amministrando cioè vuole far sapere questo per la teo canchia adesso andiamo a leggere tutto stiamo in tempi apocalittici fratele e sorelle non è che ci stupiamo che avvengono cose del genere ha messo in un concesso che la notizia sia fondata e che sia vera ma credo che insomma il giornalista un buon giornalista dosati non credo che abbia preso una bufala come si dice ma sapere nella vita tutto può succedere ma di questi tempi fratele e sorelle di queste bufale non ci sono più perché oggi giorno ce ne stanno tante di queste eresie che vengono dette comunque andiamo a vedere quello che viene detto perché è grave sinceramente quello che è stato detto ma andiamo a leggere quello che è successo dice colui che è stato lì all'interno della santa messa dice ho appena assistito a una bestialità sono appena stata la messa a 3 ore 10 e 30 alla basilica di san pietro e credo che si riferisce a roma eh fratele e sorelle quindi la messa è stata celebrata da 3-4 vescovi e circa 20 sacerdoti colui che presideva la messa che non so chi fosse esattamente ha detto queste testuali parole durante l'omelia Sodoma e Gomorra sono state salvate grazie ad Abramo e alla sua intercessione perché lui sapeva quanto è misericordioso il Signore gli faccio un inciso se siete stata alla messa immagino di sì ieri si parlava che Abramo parla con il Signore come una preghiera costante continua bellissima fondamentalmente che la Sacra Scrittura dice una bellissima preghiera perché gli dice Abramo al Signore Dio che se ci fossero anche anche 10 persone, 2 persone, 3 persone per fare un esempio non è che dice 2-3 persone ma arriva fino a 10 persone il Signore avrebbe salvato quel luogo avrebbe col condizionale fratele e sorelle avrebbe nel senso che se avesse trovato qualche giusto umile come il cuore di Davide come il figlio di Dio Padre Onipotente come il nostro Signore Gesù Cristo avrebbe salvato Sodoma e Gomorra però non avvenne questo fratele e sorelle perché poi dopo sapete che venne distrutta sia Sodoma che Gomorra però nella Sacra Scrittura dice se ci fossero queste persone infatti Abramo glielo dice nella preghiera e il Signore risponde a condiscendente dice sì certo farei così e andiamo a continuare a leggere spero per lui che abbia avuto un lapsus oppure si sia sbagliato visto che il capitolo viene tagliato e la distruzione di Sodoma e Gomorra avrà nel prossimo avevo già sentito dire che qualche sacerdote proponeva la teoria della salvezza di Sodoma e Gomorra ma la prima volta che me ne sono trovato davanti uno ed era a San Pietro messa delle 10.30 cioè proprio a San Pietro fratelle e sorelle quindi una cosa incredibile uno potrebbe aggiungere però i tempi ve l'ho detto sono questi quindi ci dobbiamo vivere su questa cosa e dice ha risposto uno stilum curiale che dice la storia di Sodoma salvata è una misericordiata evergreen il copyright potrebbe appartenere al Monsignor Galantino che la propalò vada a memoria in occasione della giornata della gioventù in Polonia dopodiché ha preso piede giungendo fino a San Pietro da quando ci racconta ora deve intervenire il Papa e cambiare la Bibbia è insopportabile che Dio attende le attese dei gay vaticani e andiamo avanti purtroppo sarà un lavoro difficile perché con buona pace di Jean Martin sapete che Jean Martin dovrebbe essere un gesuita e di altri suoi confratelli di quanti pratico performance rischiosissime per la salute del primis in corpo in primis e dell'anima poi Gesù nei Vangeli è stato piuttosto esplicito Gesù parlando del giudizio e della condanna eterna cita Sodoma e Gomorra e la colloca giusto un gradino più in alto degli increduli ma la condanna non appare in dubbio con buona pace dei salvatori di Sodoma e dice nel Santo Vangelo questo se alcuno non vi riceve ne ascolta le vostre parole uscendo da quella casa da quella città scotete la polvere dai vostri piedi in verità io vi dico che il paese di Sodoma e Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città e tu Cafarnio sarai forse alzata fino ai cieli fino agli inferi precipiterai perché in Sodoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te oggi ancora esse esisterebbe quindi significa se oggi esisterebbe vuol dire che è stata eliminata fratele e sorelle ebbene io ve lo dico nel giorno di giudizio avrà una sorta e meno dura della tua ma in qualunque città entriate questo è il Vangelo di San Luca quello che era prima di quello San Matteo se non vi ricevono uscite dalle piazze e dite perfino la polvere che dalle vostre città si è attaccata ai nostri piedi noi la scottiamo contro di voi sappiate tuttavia questo che il regno di Dio si è avvicinato a voi io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città quindi praticamente Sodoma e Gomorra come dice Gesù è collocato un gradino sotto rispetto a quello degli increduli perché lo dice proprio quindi è chiaro che Sodoma e Gomorra è stata distrutta e piuttosto chiaro non vi sembra da dove quei predi fantasiosi prendono l'idea che Sodoma e Gomorra si siano salvate vorrei saperlo perché anche Genesi 19 non aiuta lungo questa strada e andiamo a leggere così ci facciamo un calcolo fratelli e sorelli come si vuol dire Genesi capitolo 19 i due angeli arrivarono a Sodoma per sul far della sera mentre Lotte era seduta alla porta di Sodoma non appena li ebbe visti Lotte si alzò andò loro incontri si prostrò con la faccia a terra e disse miei signori venite in casa del vostro servo vi passerete la notte vi laverete i piedi e poi domani mattina per tempo ve ne andrete per la vostra strada e quelli rispostero no passeremo la notte sulla piazza ma egli insistesse tanto che vennero da lui e entrarono nella sua casa e preparò per loro un banchetto fece cuocere pane e azimi e così mangiarono non si erano ancora coricati quando gli uomini della città e cioè gli abitanti di Sodoma si affollarono attorno alla casa giovani e vecchi tutti il popolo a completo e chiamarono Lotte e gli dissero dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte e falli uscire da noi perché possiamo abusarne Lotte uscì verso di loro sulla soglia e dopo aver chiuso la porta dietro di sé dice no fratelli miei non fate del male sentite io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo cioè praticamente non hanno fatto diciamo l'amore ecco questo non conosciuto uomo nella Bibbia signora non hanno fatto l'amore lasciate che ve le porti fuori nel matrimonio in quel senso cari fratelli e sorelle lasciate che ve le porti fuori e fate quel che vi piace purché non facciate nulla a questi uomini perché sono entrati nell'ombra del mio letto ma egli risposero tirati via questo individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice ora faremo a te peggio che a loro pensate un po' no quello che dicono e spingendosi violentamente contro quell'uomo cioè contro l'otto e si fecero avanti per sfondare la porta allora all'interno quegli uomini sporsero le mani si trassero in casa Lotte e chiusero la porta colpirono in cecità gli uomini che erano ingresso dalla casa dal più piccolo al più grande così che non riuscirono a trovare la porta questo è un castigo fratelli e sorelle quegli uomini dissero a Lotte chi hai ancora qui il genere i tuoi figli le tue figlie e quanti hai in città fagli uscire da questo luogo perché noi stiamo per distruggere questo luogo il grido inalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli Lotte uscì a parlare ai suoi generi che dovevano sposare le sue figlie e disse alzatevi uscite da questo luogo perché il Signore sta per distruggere la città ai suoi generi sembrò che egli volesse scherzare ecco come sapete anche negli ultimi tempi nel Vangelo dice tutti mangiavano bevevano e scherzavano perché non ci crede nessuno poi quando arrivano le situazioni come al solito fratelli e sorelle ecco quello che succede continuando il discorso quando apparve l'alba gli angeli fecero premura a Lotte dicendo su prendi tua moglie e le tue figlie che hai qui per non essere travolto nel castigo della città Lotte induggiava ma quegli uomini presero per mano lui sua moglie e le sue figlie e per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui lo fecero uscire e lo condussero fuori dalla città dopo averli condotti fuori uno di loro disse fuggi per la tua vita non guardare indietro e non fermarti dentro la valle fuggi sulle montagne per non essere travolto Lotte gli disse no mio signore vedi il tuo servo ha trovato grazie ai tuoi occhi e hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga io muoio ecco quella città è abbastanza vicina che mi posso rifugiare là ed è così piccola cosa lascia che io fugga lassù non è una piccola cosa e così la mia vita sarà salva ecco gli rispose ti ho favorito anche in questo di non distruggere la città di cui hai parlato presto fuggi là perché io non posso fare nulla finché non vi sia arrivato per questo quella città si chiama Soar il sole puntava sulla terra e Lotte era arrivata a Soar quando ecco il Signore fece fuovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco proveniente dal Signore distrusse quelle città e tutta la valle con tutti gli abitanti della città e le vegetazioni del suolo ora la moglie di Lotte guardò indietro e divenne una statua di sale Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermata la presenza del Signore contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide con fumo saliva dalla terra e come il fumo di una fornace così quando distrusse la città della valle Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lotte alla catastrofe mentre distruggeva le città nelle quali Lotte aveva abitato ma il Signore l'aveva detto comunque che sarebbe andato in questa maniera cari fratelli e sorelle e invece oggigiorno vedete che i sacerdoti vanno a dire altre cose dobbiamo pregare proprio per i sacerdoti perché vedete come ci si allontana da Dio la verità è questa non quello che hanno detto sempre se fosse vera la notizia perché bisogna sempre mettere le notizie se siano vere oppure no comunque ammesso e non concesso che sia vera fratelli e sorelle bisogna pregare 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 Sodoma e Comora sono state distrutte non sono state salvate Dio disse ad Abramo nella parola di ieri che se ci fosse stato anche dieci persone avrebbe salvato ovviamente la vita di quei giusti e anche la città di Sodoma purtroppo il Signore intervenne perché il suo braccio come oggigiorno è molto pesante che potrebbe arrivare sulla terra quindi preghiamo il Signore che ci abbia misericordia a tutti noi e preghiamo il Signore Gesù Dio vi benedica e santa giornata a tutti voi Ave Maria Grazie a tutti